Ciao! Il mio nome è Martin, ma gli amici mi chiamano Lutero. L'hai capita? Va bene, fa nulla. Ora ti spiego velocemente una cosa della grammatica musicale che ti tornerà sicuramente utile in futuro. Quando vuoi o devi cambiare la tonalità ad un brano, e quindi devi cambiare gli accordi originali che lo compongono, devi fare tre cose. La prima è capire quale sia la tonalità del brano, ovviamente, se non è scritta da qualche parte nelle tab. La seconda è ridurre il nome degli accordi ai soli maggiori o minori. Quindi se ad esempio hai un brano che prevede la presenza del si bemolle settima maggiore, quell'accordo tu lo riduci ad un semplice si bemolle maggiore. La terza è dare il numero del grado ad ogni singolo accordo presente nel brano. Ti faccio un esempio. Prendiamo come riferimento il brano Stand By Me. Gli accordi che compongono questo brano sono la maggiore, fa diesis minore, re maggiore e mi maggiore. La tonalità è E. Quindi, saputo questo, visualizziamo i sette gradi della tonalità di la. Poi andiamo a vedere a quali gradi corrispondono questi quattro accordi. Ecco che la progressione dei gradi, quindi degli accordi di Stand By Me, è primo, sesto, quarto e quinto. Infatti, nella scala maggiore di la, il la è il primo grado, il fa diesis minore è il sesto grado, il re è il quarto e il mi è il quinto. Tutto chiaro? Ottimo! Esaminiamo ora The Way It Is di Bruce Ornsby. La conosci? No? Chi se ne frega, andiamo avanti. Sappi comunque che è in tonalità di sol. Gli accordi dell'intro, della strofa e dei due assolo di pianoforte sono in sequenza, la minore, mi minore, re maggiore, do maggiore, sol maggiore, re maggiore e do maggiore. Gli accordi del chorus invece sono sol maggiore, fa maggiore e do maggiore. Se ti stai chiedendo perché ho scelto questo brano, la risposta è che nella sua apparente semplicità ha al suo interno un cambio di tonalità tra strofa e chorus. Ma entriamo nel merito così che si possa capire meglio di cosa sto parlando. A questo punto, per cambiare la tonalità, dobbiamo soddisfare i tre punti di qui sopra. Primo, trovare la tonalità. E ce l'abbiamo. Secondo, ridurre gli accordi ai soli maggiori e minori. E ce l'abbiamo. Terzo, vedere quali sono i gradi degli accordi. Prendiamo la scala maggiore, quindi la tonalità, di sol, e vediamo quali accordi o gradi ha al suo interno. Il la minore è il secondo, mi minore è il sesto, re è il quinto, do è il quarto e il sol è il primo. Ecco che la progressione armonica della strofa è due, sei, cinque, quattro, uno. Ora passiamo al chorus. Gli accordi sono sol, fa e do. La presenza dell'accordo di fa maggiore sposta la tonalità dal sol al do. Quindi nella tonalità di do, e questa che stai vedendo, è ovviamente la sua scala maggiore. Il sol è il quinto grado, il fa è il quarto grado, e il do è il primo grado. Avremo dunque che la progressione armonica del chorus di The Way It Is è la seguente. Cinque, quattro, uno. Ora, prendi una tonalità a caso, diversa dal sol, e costruisci il brano avvalendoti del numero dei gradi che abbiamo appena imparato a costruire, partendo dagli accordi. Questo è tutto. Io ti saluto ma ricordati una cosa molto importante. Nella carbonara non ci va la pancetta, bensì il guanciale.